Dopo il Covid ci si è tornati a spostare di più verso l'estero e di conseguenza ha riacquistato maggiore importanza il servizio di medicina del viaggiatore attivato dall'Asla della provincia dell'Aquila. La medicina del viaggiatore fa capo al Ciesp, il servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica diretto dal dottore Enrico Giansante. Qualche numero sono circa 400 l'anno le persone che si rivolgono ai tre ambulatori dedicati, situati all'Aquila, Avezzano e Sulmona. Chi usufruisce del servizio di medicina del viaggiatore lo fa nell'immediatezza di spostamenti che siano per lavoro, studio o vacanza, soprattutto verso Africa, Asia o America del Sud. Nel corso delle consulenze vengono fornite all'utente istruzioni e raccomandazioni su quelli che sono i corretti comportamenti da tenere per minimizzare il rischio di contrarre malattie nel paese di destinazione. Sulla base proprio della destinazione poi, gli operatori del servizio di medicina del viaggiatore decidono anche se praticare misure di profilassi come ad esempio vaccini specifici e questi sono l'unica spesa a carico dell'utente. Proprio per via del fatto che i vaccini hanno bisogno di tempo per diventare efficaci, la raccomandazione che l'Asla dell'Aquila fa è quella di prenotare telefonicamente per tempo la consulenza in medicina del viaggiatore prima di partire.